Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un incidente ci sono rallentamenti tra il Bivio per la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori, chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e San Casciano. La viabilità cittadina a Firenze in via del Giardino Serristori per lavori, fino al 5 settembre strada interrotta nel tratto San Nicolò-Renai. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!